Raccontare storie per creare senso di comunità e coinvolgere i cittadini è questo il senso dello storytelling se ne è parlato al salone del libro nell'ambito del progetto storytelling 2015 nell'incontro che ha visto anche la consegna di attestati di partecipazione a tre progetti di storytelling hashtag agricoltura 2.0 about and around valsangone realizzato da silvia badriotto ivan bertalan e alberto milesi al mercato in bicicletta realizzato da sandra salerno e terre di nizza realizzato da luigia dragone angelo di nicola e gerardo schiavone noi ci occupiamo diciamo all'interno del mio dipartimento del rapporto che c'è tra organizzazione territoriale uso dei dati soprattutto open data e costruzione delle mappe e storytelling che ne deriva l'aspetto dello storytelling in questo momento è molto importante perché è una delle forme diciamo così di organizzazione della realtà di comprensione dei dei problemi e soprattutto delle complessità che riguardano il territorio l'organizzazione del territorio la manifestazione a cui partecipiamo che il piemonte visual contest e ha proprio questo scopo quello di mettere insieme l'organizzazione dei dati la costruzione di mappe e come ultima fase questa quella di oggi che è in la conclusione di un di un elaborazione di storytelling a partire dai dati territoriali e quindi in funzione del territorio e dei suoi prodotti e dei suoi prodotti Grazie a tutti